E' bello a tutti raga, sono Umberto Magiello Oggi siamo su cosa succede realmente sul bus di Fortnite Quindi ovviamente è immaginario, cioè non è che succede veramente questo Vi lascio al video Ok, aspettate Vediamo che succede Vediamo che tutti non vedano la schiena Ok, non è una bambina che ha detto che ci avessi una grande schiena Ok, non è una bambina che ha detto che ci avessi una grande schiena Ok, non è una bambina che ha detto che ci avessi una grande schiena Ok, quindi dovrei essere potente a creare tutto questo bluprante in un po' di due secondi Una volta qualcuno mi prende un giro Ok, ho detto che avessi un giro Si, avessi un giro Non c'è nemmeno usare tutto questo bluprante in un po' di due secondi Ok, io ho detto che avessi un giro la sua studia è veramente semplice e Omega ha detto che non è un vero detective anche se non sarà la scritta vediamo ma seriamente? questo è un altro ok, vediamo un attimo no, ora è la stessa oopps wrong game mode, my bad ah, questo ha sbagliato se doveva andare su salva il mondo wow, dude what the hell is that thing? not sure I wanna know oh my god, I can't wait to land where do you want to drop? I really want to drop down the towers because there was like so many people there as you can tell I'm a very successful person so the more people the better I've always been a city girl I've always been a city girl like oh my god, I'm so excited get me off this bus already this dude is too tight on me does it make my ass look big? ma che cos'è? non è Fortnite questo non è Fortnite honey, all of our asses look big in our outfits hey man, so I guess we're duo partners no, aspettate where do you want to drop? where do you want to drop? boat to the hills that is where we are going oh boy white, bai white, cus mi sbaglio si chiama, bai banno star tecnica se mi sbaglio non mi sguardo mh, mobile players grazie Buzzdriver grazie Buzzdriver grazie Buzzdriver ah questo che ho detto di Taritano se facciamo un poccetto rosso no vabbè è eliminata è eliminata ninja mamma mia vabbè oh no like quicliet m una prana in tratta il i vabbè i vabbè i vabbè un E mamma mia, un altro 9 milioni E mamma mia E mamma mia Gugus è molto rara È molto rara sta schiena Se non esce da Se non esce da un'idea Che schiena in me shop Stupid scapulsi Non sia, perché non è un'idea I am a class in the Navy Seals and I have accumulated over 350 fortnite wins. Do you hear me? I have over a thousand wins, I just don't buy skins. I don't even know why I'm wearing this skin. I actually don't watch football. Philly sports, I watch her e-sport. Hey, a nicer football skin. What's your favorite NFL team? Uh, Lucky Llamas? Yeah, they're awesome. Then I remember where this skin was your meat. Everyone and their mom has it. Honey, remember, after we do this duo game, your meatloaf is ready. Uniglietta. Anche questa è un po' rara, eh? Anche questa è un po' rara. Ah, sì, anche questa, se non sbaglio. Cioè, sono tutte rarie. Ok. Si è buttato per l'usso. Ehm, ragazzi? Ehm, abbiamo no bus driver. Go! E' finito? Si, è finito. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente avevo visto da uno youtuber, perché c'è, immaginario, c'è, non so. Vabbè. Complimenti, hai fatto un bel montaggio. Mi farebbe molto se ne faresti altri. Vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Lasciate un pollicione su. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, bello. Ciao, bello ragazzuoli. Grazie a tutti.